E sul voto amministrativo il nostro inviato da Roma Davide Cordo ha sentito il deputato leghista Massimiliano Federiga. Eccolo. Onorevole Massimiliano Federiga, come commenta il voto che la Lega Nord ha preso in questo voto amministrativo? Sicuramente il dato che ha inflitto di più è quello dell'astensionismo. Infatti battaglia importante sarà al secondo turno riuscire a convincere la gente ad andare a votare. Convincerla perché chi non va a votare non decide sul proprio futuro, il futuro del proprio territorio. E vuol dire per esempio quanto pagherà il cittadino di Imu, di Tares, quanto costeranno gli asili comunali e quanti ce ne saranno a servizio della popolazione. E' chiaro che tutti questi servizi sono decisi da un sindaco, da una maggioranza, da una giunta. Chi non va a votare fa decidere agli altri cosa succederà. E' importante quindi che la gente capisca questo messaggio importante e fra due settimane vada a fare una scelta che noi ovviamente auspichiamo sia la scelta indirizzata verso i candidati della Lega Nord perché hanno dimostrato di sapere amministrare e amministrare bene. A differenza degli altri che utilizzano magari la maldicenza sull'avversario senza fare una proposta di governo seria e credibile. Noi facciamo la proposta ma abbiamo anche dimostrato di saperla realizzare.